Abbiamo scritto che questa casa non è una scuola, lo stiamo gridando, chiedendo attenzione per i nostri bambini, per i nostri adolescenti, per noi adulti in difficoltà, che dobbiamo gestire a casa delle situazioni che dovrebbero essere gestite in luoghi ben diversi come le scuole. A chiedere la riapertura degli istituti scolastici adesso è il Comitato Priorità alla Scuola, un gruppo di cittadini, genitori, di studenti e personale del mondo scolastico. Non è più accettabile che dopo un anno dall'inizio della pandemia la politica continui a dire che le scuole devono rimanere chiuse. Ad Arezzo sono state chiuse con 35 positivi su 14.500 studenti, vuol dire lo 0,24%. Nelle aule dei tribunali di giustizia amministrativa si sta dicendo che le chiusure devono essere avvalorate da studi scientifici approvati. Qui si chiudono le scuole senza avere ben chiara la soluzione. Fuori da alcune abitazioni di Arezzo sono così apparsi in questi giorni questi striscioni per lanciare un messaggio forte e chiaro. Ci continuano a ripetere che prima di tutto il diritto alla salute. Va bene, siamo tutti d'accordo, chi non lo è. Il diritto alla salute però anche dei ragazzi, dei bambini. Abbiamo adolescenti con attacchi di panico, abbiamo atti di autogresionismo, abbiamo bambini piccoli, delle elementari costretti davanti a un videoterminale. Se chiediamo a qualsiasi pediatra vi dirà che assolutamente non è salutare. Come vogliamo far crescere queste generazioni? La scuola c'è, ha rispettato tutti i protocolli, i bambini hanno rispettato le regole, i docenti si sono vaccinati, in Toscana si stanno vaccinando, tutto sta funzionando, continuano a rimanere però chiuse. Non è possibile. Il comitato è anche pronto a scendere in piazza per far sentire la propria voce. Per venerdì 12 marzo è stato così organizzato un sit-in di protesta sotto i portici di Via Roma. Per gridare a tutta la città, stateci vicino, chiedete con noi a gran voce che i nostri ragazzi possano tornare a scuola.